Oh, ce l'hai il giornale? Il giornale? Perché? Ho finito le artini. Boh, e che la fai con una pagina del giornale? Verrà un po' più lunga. Ti darò il giornale di ieri. No, dommi quello di oggi, vai. Ma tanto lo legge mia. Come no? Mentre lo fumo, lo leggo. O come fai a leggere, non ti venga l'occhi torti. Per ora no. Ascolti, via, non te lo do il giornale di oggi per fumartelo. Allora, offrimi da te, vai. Un fumo? Allora, dammi un pacchetto, vai. In Vesto Barre, non si vendono né sigarette, né giornali per farsi i tuoi buoni. Sono grandi. Oh, eh. A proposito di giornali, lo sai che il mio nonno era giornalista? Ah, sì? Ha lavorato per il Fatto Quotidiano. E te hai seguito le suoi? Ma io non sono il mio giornalista. Però sei quotidianamente fatto. No, solo quando non lavoro. Accendere. Ma che lavoro fai? Niente. ассi.